Internazionale ABF dei Super Welter di Felice Moncelli vi proponiamo questo incontro di sottoclou da Corato in provincia di Bari tra due giovani talenti un incontro importante per entrambi Valerio Ranaldi e Walter Fiorucci inquadrato in quell'istante molto importante perché può rappresentare la possibilità di avere in un breve futuro delle chance importanti ha fatto l'ingresso sul ring Valerio Fiorucci è un umbro che ha all'attivo sette incontri di cui sei vittorie di queste ben cinque prima del limite quindi un pugile con il pugno pesante e una sconfitta è allenato come vedete da Franco Falcinelli un allenatore notissimo nel panorama internazionale mentre all'angolo rosso abbiamo Valerio Ranaldi Romano con all'attivo sei match cinque le vittorie di cui due prima del limite una sconfitta è allenato da Marco Di Gianfrancesco sono due pugili giovani Valerio Ranaldi ha 27 anni Poetaneo e Walter Fiorucci si scrutano già Nino Walter Fiorucci sta guardando fisso il proprio avversario Valerio Ranaldi che invece guarda tra il pubblico probabilmente sta cercando suo padre perché per una volta è venuto a vederlo Intanto Valerio Lamanna il ring announcer ha fatto la sua presentazione e adesso ha inizio questo match sulle sei riprese l'arbitro di questo incontro è il signor Michele Contino sono due supermedi di alta statura diciamolo entrambi sono oltre il metro ottanta e quindi la possibilità per entrambi di combattere da lontano avere una visione più ampia del del raggio d'azione per entrambi un vantaggio e una possibilità è inizio il match subito Maggredisce si chiude bene Valerio Ranaldi in difesa sicuramente più fighter Walter Fiorucci rispetto a Ranaldi che si presenta come stilista gancio destro di Fiorucci poi il sinistro un avvio di ripresa impegnativa per Ranaldi perché Fiorucci si è messo immediatamente a attaccare e a portare molti colpi che fra l'altro sono arrivati nella guardia nella difesa di Ranaldi Ranaldi in pantaloncino nero bianco invece per Fiorucci Fiorucci che è di Umbertide in provincia di Perugia intanto viene centrato da un destro corto Ranaldi che cerca in qualche modo di legare e far passare questo momento difficile per lui da vicino l'Amelio Fiorucci con il suo jab sinistro con il suo gancio sinistro che è arrivato a segno un paio di volte senza grandi effetti naturalmente perché non c'era possibilità di caricare il colpo jab sinistro e poi buona la combinazione è conclusa con il giancio destro di Ranaldi sono dei bei scambi di colpi anche Fiorucci da vicino non si fa pregare per scaricare le stesse serie di colpi attende Ranaldi cerca la mossa dell'avversario per trovare l'anticipo sembra essersi esaurita almeno per il momento la verve di Fiorucci che ha condotto i primi due minuti costantemente all'attacco e da vicino chi ha l'Amelio invece Ranaldi con dei colpi stretti corti dei ganci che arrivano anche a segno ribatti immediatamente Fiorucci con un montante ma è Ranaldi che ha l'Amelio perché attacca lui per primo è lui che inizia l'azione Ranaldi sta combattendo in maniera un po' diversa rispetto al solito lui portava combinazioni su combinazioni quindi tantissimi colpi stavolta sembra centallinando il diretto destro che spedisce in ginocchio Fiorucci sul montante destro di Fiorucci è partito il destro di Ranaldi che l'ha colpito in piena mascella adesso lo rivedremo poi il nostro regista Dario Barone ci riproporrà senz'altro al termine di questa prima ripresa questo bellissimo gesto tecnico di Valerio Ranaldi e ancora il destro un po' largo del Romano sembra che Ranaldi abbia anche una maggiore potenza è in difficoltà mancano dieci secondi al termine deve stringere i denti Fiorucci un momento difficile la campana suona leggermente prima che è una leggera discrepanza con quello che vedete voi da casa ma può essere naturale ascoltiamo l'angolo di Fiorucci Falcinetto si sta presentando come un bel combattimento attento attento sulle mani prima di tutto quando fai l'azione a corpo a corpo non esaglierare con tutti quei colpi tre due tre ma precisi a bersaglio non così a caso come fai ti spieghi energie l'hai preso col montante sinistro riprovaci ok ok non ti deprimere dai che ci sei ok ecco abbiamo abbiamo ascoltato Vaccinelli ma soprattutto Barone ci ha fatto rivedere questo questo colpo che è stato veramente preciso ricercato costruito con un'azione bellissima di Ranaldi seconda ripresa seconda delle sei previste però bisogna anche dire che Fiorucci si è alzato immediatamente e sembrando non avere non risentirne poi di quel colpo subito c'è da dire che Fiorucci è un anno e mezzo che non combatte e ha scelto di disputare l'ultimo incontro in World Series of Boxing incontro che all'atto pratico aveva vinto in realtà poi la vittoria è stata data all'avversario straniero ma e poi probabilmente cercherà di entrare nel nel novero dell'APB della box professionistica dell'Aiba e quindi è passato un po' di tempo colpi molto classici quelli di Ranaldi diretti sinistro e destro che arrivano puntuali al bersaglio sul volto di Fiorucci sono colpi anche di una certa potenza perché si vede proprio che Ranaldi gli spinge e con uno scatto ultimo arrivano a segno sempre alle corde e l'altro destro finisce nuovamente a terra forse l'arbitro si no l'arbitro ha fatto bene fa bene fa bene a interrompere l'incontro perché perché di fatto aveva notato subito la forte instabilità sulle gambe una grande vittoria una bella conferma da parte di Ranaldi Ranaldi che era stato battuto da Battista Castegna Rau il 14 marzo dello scorso anno con un bruttissimo K.O un aggancio destro poi era tornato contro Daniele Silvestri vittoria per la squalifica alla terza ripresa ma comunque nelle tre riprese aveva dimostrato di essere nettamente superiore questo doveva essere il match del suo rientro effettivo ed è una bellissima conferma devo dire che Ranaldi questa scena ha dimostrato di cominciare a pensare a pensare che vedremo delle belle cose con lui perché ha fatto vedere dei colpi classici dei colpi precisi dei colpi studiati portati con quella tecnica e tattica che non è sempre da tutti che possono vantare e lui ha mostrato stasera Ranaldi di avere un futuro io punto su Ranaldi e fai bene e fai bene Nino perché ha dimostrato già in passato ma questa sera soprattutto con grande freddezza ha affrontato lo sfogo iniziale di Fiorucci un assalto che era temibile ha aspettato che rallentasse un po' il ritmo e ha incominciato a fare la sua box ripetiamo leggermente diversa dal solito ha centellinato di più i colpi è stato molto preciso le combinazioni sono state perfette due diretti destri da manuale portati con molta facilità con molto scatto e precisione senza anzi il secondo è un mezzo diretto destra no anzi è un gancio è un gancio stretto quasi un gancio sì ma portato senza potenza con molta precisione e uno scatto che arrivando a segno ha dato il suo effetto naturalmente come si deve siamo al momento del verdetto è più che scontato vittoria per Capò nella seconda ripresa una vittoria che non lascia dubbi Fiorucci dalla sua ha una lunga assenza dal ring è certamente un elemento molto molto valido eseguito abilmente dal maestro Falcinelli quindi anche per lui sicuramente ci saranno ottime chance in futuro Valerio Aris Ranaldi Valerio Ranaldi quindi vince il suo settimo il suo sesto combattimento di sette da professionista vediamo se riusciamo ad averlo adesso al nostro microfono probabilmente anche urlando ecco sta arrivando eccoci qui allora come come i grandi professionisti sai che devi passare a fare l'intervista allora ai complimenti Nino benvenuti si aggiungono i miei ma io credo che si aggiungeranno tutti quelli degli appassionati perché hai fatto un match molto intelligente hai centellinato i colpi le tue combinazioni erano precise da manuale il diretto destro il primo e il gancio corto che ha chiuso il match davvero complimenti grazie mille cosa hai da dire ho visto che l'avversario ha iniziato il match subito aggressivo caricando i colpi mi sono parato comunque ho sentito i suoi colpi che erano potenti anche se li paravo con i guanti quindi sono stato accorto e ho capito che dove un attimo farmi gli affari miei diciamo dal momento che ho visto che l'avversario dopo le prime due o tre serie iniziava già ad avere il fiatone perché caricando i colpi subito dall'inizio ci si stanca sono riuscito a mettere quel colpo e uscendo leggermente sulla mia destra centrandolo bene l'avversario è cascato bene noi sappiamo che tu vieni da un incontro perso per KPO l'incontro del rientro di fatto ti aveva detto poco questa sera invece qualche conferma in più è venuta sicuramente sicuramente il pubblico e tutto il resto non aiuta nel senso a livello di emozioni se sei una persona abbastanza fredda invece riesci a darti una mano qual è il tuo soprannome? Ice e quindi? ghiaccio io mi sono ho detto durante il commento che di te sentiremo parlare che hai fatto vedere delle qualità che non si vedono sempre sul ring molta freddezza molta compostezza colpi precisi pochi ma buoni e che credo tu li coltivi li curi come un orticello sicuramente perché per portare dei colpi come questi bisogna averli portati tanti altri prima sicuramente e tu sicuramente l'hai fatto vero? certo si cura molto con le figure con il maestro la precisione dei colpi e la secchezza dei colpi eccolo qui il maestro Marco Di Giofrancesco colpi che avete curato in palestra che avete studiato avevamo studiato l'avversario aveva i ganci pesanti insisteva un po' con i ganci e se eravamo preparati sui bloccaggi veniamo da una sconfitta pesante inaspettata abbiamo fatto un buon rientro un mese e mezzo fa il lavoro ha dato i frutti il ragazzo si è concentrato maturiamo ancora un pochino non si finisce male puntiamo al titolo bene state pensando che avete in mano un capitale perché mi pare che questa sera ha mostrato di avere delle grandi qualità io ho visto delle bellissime e grandi qualità ripeto dopo l'inaspettata sconfitta di marzo rivediamo Valerio Ais quello che era bene e che si è apprezzato e ne vedremo delle belle grazie a Marco Di Giofrancesco complimenti ancora a Valerio Ranaldi per questo bel successo in bocca al lupo e noi concludiamo qui questo match un match che ci aspettavamo potesse durare tutte se le riprese così non è stato lo spettacolo anche se in modo sintetico siamo certi non è mancato no non è mancato assolutamente anzi ci ha fatto vedere qualche cosa di veramente molto bello io mi sono entusiasmato bene allora grazie grazie alla regia di Dario Barone a tutti voi per averci seguito e ai prossimi appuntamenti con il Fugilato buon anno